C'è il mio nipotino che un giorno ha detto una cosa meravigliosa. Ha detto a suo papà, papà, com'è bella la noia. Lasciamo che i bambini abbiano la possibilità di rimanere un poco con se stessi. E di sviluppare la loro fantasia. Per questo servono le favole. Perché quando racconti una favola al bambino, poi questa favola rimane, lavora. Sapete, nei primi due anni di vita, sapete, quando nasce il bambino ha già tutte le sue cellule nervose. Ma le cellule nervose non sono ancora ben connesse le une alle altre. E quindi sviluppa queste connessioni. Nei primi due anni di vita sviluppa qualcosa come migliaia di connessioni al secondo. Sviluppa enormemente connessioni mentre comincia a fare le sue prime esperienze. E poi taglia quelle che non servono e consolida quelle che servono. È un momento meraviglioso. Ma anche in seguito, quando il bambino già comincia a comunicare con i genitori, ci sono moltissime connessioni che si devono stabilire. sapete, il disastro di bambini abbandonati, di bambini di orfanatrofi, che non riescono a sviluppare le connessioni dell'amore. Dell'amore della mamma, dell'amore del papà, dell'amore della famiglia. E le fiabe aiutano a stabilire delle connessioni che faranno di questi bambini una bella persona. How If Abstabere Asое 我 Asi I I A род I Grazie a tutti